Ciao ragazzi, ecco l'ultimo aggiornamento sulle t-shirt che stanno per uscire era un po' che non ci sentivamo, però adesso vi farò vedere quello che abbiamo fatto nel frattempo Ecco qui una t-shirt finita il primo elemento che abbiamo rinnovato è il length tag, il cartellino che è appeso sulle t-shirt e l'abbiamo rifatto nuovo, abbiamo messo i contatti social abbiamo messo la caratteristica fondamentale cioè deve aver fatto tutto in Italia poi se apriamo la t-shirt, ecco qui il ricamo e anche c'è l'etichetta del produttore che conferma il fatto che abbiamo fatto tutto in Italia qui Made in Italy L'ultima cosa che vi faccio vedere è il photoshooting che abbiamo fatto l'abbiamo fatto sia in esterna che in interno le foto in studio le abbiamo fatte presso l'agenzia di comunicazione UnitaDV e sono state fatte da un fotografo fantastico che è Mario Casati Per fare quello all'aperto invece siamo andati nella nostra città, Verona e il fotografo in questo caso era altrettanto bravo e si chiama Enrico Vallicella Siamo purtroppo giunti al termine di questa video puntata e vi saluto, vi rimando al sito con tutte le foto delle t-shirt che abbiamo fatto e alla prossima, ciao!